Qui in Italia abbiamo perso una generazione di giovani, negli ultimi 25 anni non abbiamo permesso ai giovani di esprimersi e questo è stato ovviamente frutto dei problemi dell'Italia ma è poi diventato anche un elemento che ha contribuito alla crisi italiana. Bisogna quindi recuperare, bisogna fare qualche cosa, c'è bisogno di qualcos'altro, c'è bisogno della scintilla creativa, c'è bisogno dell'elemento umano e l'elemento umano è l'innovatore, è l'imprenditore e poi siete gli imprenditori potenziali, attuali, futuri, presenti, poi siete gli eroi del mercato. Grazie 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 Grazie